E' iniziato a Piacenza il tour dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, toccherà tutte le province dell'Emilia-Romagna tanti i temi affrontati dall'ambiente ai tagli ai costi della politica. Il servizio è di Antonio Boschi. Dai rifiuti alla sanità, dai tagli dei costi della politica al dissesto idrogeologico. E' un ventaglio di argomenti a 360 gradi, quello affrontato dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle a Piacenza. Nella prima tappa di Regionando il tour che toccherà nelle prossime settimane tutte le province dell'Emilia-Romagna. Nove appuntamenti nei quali i grillini illustreranno il lavoro svolto in questi primi dieci mesi, ma non solo. Soprattutto poter raccogliere da chiunque, simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, curiosi, di persone che hanno voglia di sapere cosa si fa in regione, portare delle proprie proposte o delle proprie spunti ed entrino dentro le mura del palazzo, ci fa piacere perché siamo qui per questo. In primo piano, nella relazione dei consiglieri 5 Stelle, il taglio dell'indignità dei consiglieri regionali. Che è stato portato a 5.000 euro lordi, proprio come chiedevamo noi. Questo taglio ha comportato un risparmio di quasi 700.000 euro all'anno. Questi fondi, come da noi richiesto, finiranno in un fondo per il microcredito. I consiglieri hanno inoltre rivendicato come risultato ottenuto lo stop ai tagli degli ospedali regionali. Siamo riusciti a fermare quello che era il depotenziamento che la Regione stava effettuando in tutte le strutture dell'Emilia Romagna senza passare né dall'Assemblea legislativa, tantomeno senza avere un piano esatto che ci facesse capire qual è la situazione. Grazie. 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 Grazie.